Le fiammate della ripresa non bastano e il Barletta non va oltre lo 0-0 contro la derelitta puteolana. Finisce a reti bianche la sfida del Puttilli con i biancorossi che restano al quarto posto, ma senza spostare gli equilibri in zona playoff. Farina deve rinunciare allo squalificato Cristallo e all'indisponibile Russo, fermato da un attacco influenzale. In campo lo Iodice, Scaringella, Lattanzio e un Lavopa in crescita. Inizio al piccolo trotto con più puteolana che Barletta, al quattordicesimo conclusione di Dancora che termina a lato. La risposta dei padroni di casa, due minuti più tardi, Lamberti respinge sullo Iodice, ma Lattanzio non riesce nel tappo invincente. Ritmi che non decollano, la squadra di Farina ci prova a ridosso dell'intervallo al 39esimo. Chance enorme per Maccioni che a centro aria spara alto al 43esimo. Vicedomini non inquadra la porta dal limite dell'aria e un minuto dopo ancora Maccioni spedisce oltre la traversa. L'ultima occasione al 46esimo con Lavopa ancora Lamberti. Ripresa al via con gli stessi 22, dopo due minuti Rimoli alla palla per portare in vantaggio la puteolana ma calcia fuori misura. Un minuto dopo si affaccia il Barletta, palla sul secondo palo per Scaringella che calcia fuori. Al quinto i campani in avanti con Dancora alto. All'undicesimo Padalino pesca Maccioni in aria, colpo di testa bloccato da Lamberti. La sfuriata del Barletta schiaccia la puteolana in aria di rigore al 16esimo. Miracolo del portiere sull'Attanzio. Al 17esimo intervento sulla linea su Scaringella. E al 18esimo è clamorosa la palla gol non concretizzata dall'Attanzio. Davanti alla porta Biancorossi ancora a trazione anteriore. Lamberti ancora su Maccioni al 24esimo. Alla mezz'ora numero uno Campano strepitoso su Petta. Un minuto più tardi Mignogna salva tutto a Lamberti battuto. Al 32esimo a lato anche il tiro di Loi Odice. Nel finale la puteolana tiene botta. Unica chance nei set di recupero al 52esimo. Ancora con Loi Odice che non c'entra la porta. Finisce 0-0. Il Barletta resta quarto con 57 punti. A tre turni dalla fine. Domenica Biancorossi in trasferta a Matera.